Ecco, siamo in retta per festeggiare la Giorgia, Giorgia Bordignon, seconda delle Olimpiadi di Tokyo 2021, che ha dominato la gara, ha fatto anche il record italiano, quindi tutto il paese vicino alla nostra Giorgia, il sindaco Fabio Intagnoli e Don Giuseppe Vai, in questo momento sta suonando le campane a festa, auguri, grande, ciao, ciao, grazie di tutto, grazie della tua splendida prestazione e per quello che rappresenti per tutti noi. La nostra Basilica del IX secolo, tutto il mondo deve sentire la nostra gioia. Poi abbiamo anche il turno tecnologico che io a telefono fa suonare le campane, quindi è uno spettacolo di tecnologia anche. Grazie, grazie. Bene. Forza, Giorgia, grazie. Congratulazioni. Forza, Sciagro che è anche a Tokyo e a tutti. Grazie del tuo metà all'idea e grazie di tutto. Un abbraccio e a presto. Ciao, ciao. Ciao ciao